Non era l'inizio di un nuovo giorno. Ma che scherzo! Era l'inizio di un incubo. Se sono stata io, non l'ho fatta apposta, lo giuro. Perché mi vuoi aiutare? Perché sei innocente. Se nell'armadio c'era qualcuno, vuol dire che t'hanno messo in mezzo. Chi è che mi vuol mettere in mezzo? Ascoltami, alla omicidia hanno un capello piuto, che era a casa di Kodchak. Jeff Bridges, Jane Fonda. Un grande thriller di Sidney Lumet. Il mattino dopo. Domenica alle 23.15. 7 Gold.